Ciao, dopo esserci conosciuti e avervi presentato cos'è la cottura a bassa temperatura, partiamo con la prima ricetta che sarà un uovo cotto a bassa temperatura. L'uovo è l'unica ricetta che viene fatta senza l'utilizzo del sottovuoto. Le uova risulteranno cotte con una consistenza del tutto particolare perché l'uovo cotto in questa maniera ha una consistenza unica nel suo genere, che con le cotture tradizionali non si riesce ad ottenere una consistenza così. Perfetto, la consistenza si vede. Questo è il piatto finito. Grazie a tutti.